Per farmi venire un'idea per un abito nuovo, ho diverse tecniche. Zen, arte e terapia, pisolino, sogno. Oppure mi faccio un giro nel quadrilatero, partendo da San Babila. Guardo tutte le vetrine, prendo qualche spunto, poi ci scappa il regalino magari. Conosco questa leggenda metropolitana sul quadrilatero. Deve essere antica, è una specie di monito delle mamme per le figlie spendaccione. Pare che in un negozio d'alta moda a un tempo esistesse un camerino magico, dentro al quale si perdevano regolarmente le tracce di tutte le ragazze che c'entravano per più di tre volte. Abbastanza creepy. A me piacerebbe avere un camerino dove ogni idea si trasforma in un abito, tipo... Bella questa, no? Ciao! Ciao! Grazie a tutti.